Campari ha iniziato la sua strategia di sostenibilità ben prima dell'obbligo della normativa di rendicontazione non finanziaria per le aziende quotate, predisponendo un bilancio su base volontaria, ma l'attuale sustainability roadmap, così come è applicata oggi nel gruppo, è stata approvata dal nostro lead team a fine 2019 e individua quattro aree chiave per il gruppo sulla sostenibilità, che sono Our People, che riguarda tutto quello che ha a che fare con i nostri dipendenti camparisti, come ci definiamo, Responsible Practices, che invece riguarda tutto quello che ha a che fare con il prodotto, dall'approvvigionamento responsabile delle materie prime, passando per la qualità, fino a una comunicazione responsabile nei confronti dei nostri consumatori per un consumo responsabile dei nostri prodotti, che sono per lo più dei prodotti alcolici. Naturalmente l'interesse del gruppo è quello di produrre e vendere i nostri oltre 50 brand, ma allo stesso modo vogliamo farlo in maniera responsabile, affinché quindi i nostri consumatori consumino i nostri prodotti in modo moderato e responsabile. La terza area del gruppo riguarda naturalmente l'ambiente, che ha a che vedere con l'impatto dell'azienda lungo tutta la sua catena del valore, quindi non solamente riconducibile all'impatto derivante dalle proprie attività produttive, ma anche dell'impatto ambientale che possono avere i nostri fornitori o i nostri distributori nel momento del trasporto delle materie prime. E infine l'area di community involvement, che riguarda tutte quelle iniziative per il territorio a beneficio delle comunità nelle quali siamo inseriti.